Asa Cars è un'azienda fornitrice di servizi di vendita e noleggio di autoveicoli e motoveicoli. Dal 10 aprile 2021 siamo attivi con la nostra terza sede in via Vittorio Veneto 22 a Cava de Tirreni. Sarà consegnato a novembre il progetto definitivo del parcheggio in roccia che sorgerà a Cetara lungo la statale 163 Amalfitana. L'opera, da tempo attesa, potrebbe rivoluzionare per sempre l'aspetto della cittadina costiera. Infatti il parcheggio, che conterrà ben 370 posti auto, sarà collegato al centro cittadino con due passaggi pedonali, uno verso la parte bassa in corrispondenza della torre vicereale e un altro verso la parte alta. Oltre a risolvere il problema della sosta delle auto, il parcheggio diventerebbe un punto di riferimento per residenti e turisti che con una breve passeggiata potranno raggiungere anche il porto di Cetara dal quale imbarcarsi verso le tante località turistiche della costiera amalfitana. Data la complessità dell'opera, i tempi di realizzazione potrebbero essere abbastanza lunghi, ma finalmente Cetara avrebbe la possibilità di trasformarsi in un'isola pedonale dove poter passeggiare con strade attraversate da un esiguo numero di mezzi. Grande soddisfazione è stata espressa ai nostri microfoni dal sindaco di Cetara, fortunato della Monica. Il 15 novembre la società che ha firmato il contratto con l'ACAMIR, l'azienda di Naus e la regione Campania, hanno come termine il 15 novembre che consegnano i parcheggi per 300 posti auto nei pressi dell'hotel Cetus. Quindi un progetto che si spera possa essere esecutivo in tempi brevi? È normale, mi consegneranno un preliminare definitivo da qua a un mese, poi il governatore già pubblicamente ha dichiarato che metterà immediatamente 29 milioni di euro per poter far finanziare questa grande opera che non solo è importante per il mio paese, cambierà i volti del mio paese, ma è importante per tutta la costiera amalfitana perché sarà un progetto di interscambio che il turista metterà la macchina in questo parcheggio e poi con le vie del mare il turista se ne andrà comodamente a girare tutta la meravigliosa costiera amalfitana.